Domani, domani, domani Non può mancare anche oggi su Radio S l'appuntamento con il 3 minuti con Scopriamo chi è l'ospite di oggi Radio S Per gestione auto, giovanissima sarai giurata a Capalbio giovanissima il rapporto all'età degli altri no, beh oddio qui riprendo il ragionamento fatto prima in conferenza, nel senso che io ho quasi 33 anni, negli altri paesi alla mia età fanno le nonne delle ragazzine di 8 che sono delle super dotate, talentuosissime quindi forse bisognerebbe un po' rivedere i canoni di gioventù. In Italia sono così sono fino a 50 anni appunto, quindi vorrei cominciare a pensare che sono già abbastanza grande per essere considerata almeno adulta, non giovanissima Sei contenta di essere una giuria? Sei la prima volta? Sono la seconda volta l'avevo già fatto per il Roma Independent Film Festival sezione corti internazionali era stata molto divertente per cui mi aspetto comunque visto che qui sono corti italiani e questo già mi interessa molto perché è una parte insomma del cinema, della produzione cinematografica che visito poco insomma, prima ho fatto una gaffa mi sono dimenticata che ho fatto un corto quest'anno perché di fatto comportano un impegno quasi uguale a quello dei lungometraggi o di altre cose e poi fanno molta più fatica a parte in contesti come questi ad essere valorizzati quindi speriamo che cose come queste spingano sempre di più perché i corti acquistino la dignità che meritano insomma che sono veri e propri piccoli film con la dignità dei lunghi sicuramente Progetti per il futuro corti o lunghi? Al momento televisione e comunque lunghi quindi ripeto stranamente mi capita veramente di rado che mi propongano dei corti quindi ed è una cosa che mi interessa quindi spero